Un incendio divampato questa sera, lunedì 27 novembre, poco prima delle 21, presso un'abitazione situata in vivetta Castellamonte. Le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, carrofiamma e autoscala. Le fiamme si sono estese intaccando sotto tetto. I vigili del fuoco hanno domato e spento l'incendio e preceduto la messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Questo è il fuoco? No. Questo è il fuoco.